Importante è l'incontro di questa mattina sulla legge relativa alla responsabilità professionale delle professioni sanitarie e alla sicurezza delle cure. Non solo un racconto di quello che è stato l'iter legislativo di questa grande riforma attesa da più di vent'anni nel nostro paese, ma davvero un confronto e un dibattito sui punti fondamentali che sono il cuore della legge, cioè il diritto dei cittadini ad avere una risposta di salute, la valorizzazione e la centralità dei professionisti della sanità in un'ottica diversa e soprattutto il cuore della legge, la finalità più importante che è quella di ricreare una relazione importante, un dialogo importante, quindi un'alleanza terapeutica fra cittadino, paziente e professionista della sanità che negli ultimi vent'anni nel nostro paese, visto il grande contenzioso sanitario, era ormai qualcosa di assolutamente perduto.